Sono Mauro Interdonato, lavoro col CU Sound da diversi anni, mi occupo della parte di selezione dei videoclip musicali per una sezione che si chiama Soundis. A breve cominceremo di nuovo a recuperare materiale in giro per il mondo da Oriente a Occidente. Sono Fabio Bortolotti, in arte Kenobit, mi occupo di videogiochi da sempre, ho scritto in passato full rivista di videogiochi, suono un Game Boy, faccio musica 8-bit con un Game Boy e in generale sono molto interessato alla cultura del videogioco, del retro gaming, sia per quello che riguarda i giochi sia per quello che riguarda la musica. Io sono Paolo Armao, sound designer, mi occupo di sound design per cinema e videogames, adesso principalmente, quindi tutta parte lo sviluppo del suono, la progettazione del suono, non musica, ma il suono per quanto riguarda i videogames. Io sono Davide Mancini, mi occupo di videogiochi nel senso di stampa specializzata e oggi abbiamo parlato tutti quanti insieme del rapporto che c'è tra il suono, la musica e la narrazione che poi siamo passati la palla tra cinema e videogiochi. L'idea è stata quella di provare a definire uno scenario in parte in comune di analogie e differenze tra i due mondi e studiare qual è il ruolo della musica all'interno di produzioni sempre più complesse dal punto di vista dell'intrattenimento e della multimedialità e, insomma, dai vari punti di vista, da chi comunque è un musicista, da chi lavora ai videogiochi, da io che provo a raccontarli. Quindi diciamo che l'esperienza è stata più o meno questa. E quali sono stati i giochi che hanno rappresentato di più il nuovo modo di intendere i soundscape sonori, oppure quali sono stati nella storia i punti fondamentali da cui c'è stata, insomma, un'evoluzione del rapporto tra musica, gameplay e narrazione. Grazie.